I carabinieri della compagnia di Sulmona hanno fermato 7 persone in totale, tutte residenti a Pescare. In trasferta nel capologo Peligno per tentare il furto in un supermercato, i presunti autori dell'azione delittuosa sono stati fermati e sottoposti alla perquisizione personale e veicolare che avrebbe permesso di rinvenire elementi utili ai fini delle indagini. Una dei sei, colta da malore dopo il blitz dei carabinieri, si è sentita male ed è stata accompagnata nel pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona per gli accertamenti del caso, sono in corso le verifiche nella caserma dei militari per l'adozione di eventuali provvedimenti. Al momento non sono stati rinvenuti segni di scasso nell'attività presa di mira, per questo vanno avanti le verifiche. L'operazione dei carabinieri coinvolge anche altre tre persone, tutte residenti nel Pescarese.